Buongiorno Le lauree oggi gratis, chi vuole laurea? Il potere mafioso, le criminalità e il potere economico Una è quella E mi dispiace che sia stato detto poco in questi giorni Ma avete visto l'ultima inchiesta fatta sui diplomifici in Sicilia Anche un consigliere provinciale Parlo di tante di quelle scuole che stanno arrestando C'è quello che dai tempi di Pellin Quello noi dicevamo su queste scuole Sul modello che ci vuole riposare Puoi far finire in un'aula di tribunale Al tuo caso, chi di voi ha seguito in queste settimane Il caso dello sfarto dell'Istituto d'Arte Via 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 Uno, due, tre Più basso, più basso E' in tale contesto, oltre che la storica locazione universale dell'Ateneo Che si vuole la cerimonia di Pellin Di conferimento della laurea specialistica Noris Causa In governo e gestione delle amministrazioni e imprese A Francesco Pedalista Tantagilone Presidente della Società dell'Acqua Pia Antica Accia Entra in corteo la commissione di laurea In testa è il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Catania Professor Antonino Mecca Segno, imprese della Facoltà di Scienze Volibili Professor Giuseppe Lesto Il professore e proponente Giuseppe Barone I presidi delle Facoltà Acquisito il parere da parte del signor Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ha disposto la convocazione del Collegio dei Presidi Per procedere al conferimento della laurea specialistica Noris Causa In governo e gestione delle amministrazioni e imprese A Francesco Bellavista Tantagilone Magnifico rettore, la commissione ha preso posto Quando lo desidera può dare inizio alla seduta di laurea La seduta ha inizio, buonasera Questa è la prima operazione di festa La vergogna, 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 vergogna Il punto di smonta cruciale si pote senza dubbio nel 94 Allora che acquisisce il controllo della società dell'acquatia antica marcia Tantaglise e gloriosa in questi quotidiani italiani Nata, pensate nel 1868, come anno romana o altre compagni Questa è un'altra laurea la prossima settimana Qui dentro Verrà fatto uscire proprio per l'occasione Santa Paola! Ha detto Santa Paola! Il testo presenta una carta geografica del regno di Napoli e di Sicilia Di Robert de Bogondi Questa seconda edizione francese Illustra una relazione del viaggio fatto nel 1770 Ricca di escrizioni di città e di osservazioni Sul colpore, le feste, le abitudini, le rappresentazioni musicali, le donne, la galanteria dei siciliani Il rettore prende il libro per Francesco Bellavista Cattagione Il rettore pronuncia la formula di rito Il rettore porge il libro, prima chiuso, lo ritira e lo riconsegna aperto Il libro chiuso significa che Francesco Bellavista Cattagione possiede la scienza Il libro aperto significa che egli può portare nella società quella scienza con la parola e con l'azione Il rettore prende l'anello e pronuncia la formula di rito L'anello simboleggia l'alleanza del neodottore con la scienza Sull'anello, impresso il simbolo dell'Università di Catania Il rito dell'anello, caratteristico dei dottorati medievali, acquista qui una particolare prenazza Il rettore consegna la pergamena a Francesco Bellavista Cattagione Grazie a tutti Grazie a tutti